Allora io sono Riccardo Pasquarelli di età, meglio non dirla, ho passato i 90, ho conosciuto meglio certe persone che ancora credevo di conoscere o alcune che non conoscevo e le ho conosciute in profondità, cosa che non guasta mai. L'esperienza poi per quello che riguarda la tematica dell'incontro è una tematica che, data la mia età, mi interessa poco, però capisco che per il futuro è una tematica molto importante e quindi io sono favorevole a proseguire un'indagine più approfondita di quello che oggi è stato spesso in termini molto blandi, intellegibili un po' per tutti, perché per fare una cosa del genere c'è gente che abbia una preparazione di base già abbastanza avanti, per cui mi devo favorevole alle proposte che poi faremo con la Presidenza per il futuro prossimo di questa attività.